Musica Mancano pochi metri e arriviamo alla destinazione Il ragazzo è già lì che ci sta aspettando Solo che abbiamo visto il posto raga È veramente losco In una maniera incredibile Ho un po' d'ansia Ciao Ciao Allora mi hai detto che hai un po' di merce da mostrarci Sì raga è importante non mi riprendete Perché non mi... Sì sì Come da patto Come abbiamo pattuito Io svuoto le cantine E ho trovato questa scatola di carte Pokémon L'ho già fatto altre volte Ma è una gran perdita di tempo per me Perché io non ne capisco niente Ho provato a guardarci qualche volta Due o tre volte le ho vendute Ma ho altre cose da fare Sì è una roba lunga Comunque non è una cosa facile certo For me l'ha visto piaciuto Quello che c'è Prendi e porti via Ok Non posso scavecchiare No no le carte sono queste Io non ho il tempo da perdere Adesso ho anche altri lavori da fare Questo è quello che c'è dentro E se vi interessa la roba Prendete su così 400 euro Prendete e portate via Quanto? 400 Guarda io avevo in mente un'altra cifra Cioè adesso capisco Che per carità qualcosina ci può anche essere Però il punto è E se non c'è niente Io ti posso offrire 200 euro Avete visto così 200 euro 200 euro? Non si lascia proprio No raga 200 euro non ci fa niente Mi dispiace Dì possiamo contrattare un minimo? Quanto mi vuoi offrire? Guarda io non più di 250 Mi dispiace 250 Ma allora È una perdita di tempo Della madonna Ci vuole un sacco di tempo Per vedere quanto costano 250 non ci faccio niente Sembra che mi prendi per il f***o Dai non ci fa niente Guarda raga Mi avete fatto perdita un sacco di tempo Ascolta 300 ultima proposta che posso fare 400 300 è il massimo Che ho portato 300 euro spaccati dietro Quindi più di così Non ti posso proprio offrire Mi dispiace Se vuoi contanti così Subito Va bene Dai va bene Ok 300 subito Aspetta che te li conto Scusami Mi pare che Allora sono 280 E 20 Voilà Dai ti ringrazio Intanto posso prendermi la box Ma un'altra sbirciatina al volo Mi dai 50 euro in più? Va bene Non c'è tempo da perdere No Ti ringrazio Ciao grazie Ciao grazie Ci mettiamo a controllare le macchine Ok Ragazzi ovviamente dobbiamo dare un'occhiata al volo Per capire anche se nel caso siano stati truffati Io qualcosina di carino l'ho visto Però 300 euro sono soldi E dato che sono 300 euro Minimo 300 like E 100 commenti Se volete altri acquisti del genere Ce la rischiamo raga Allora innanzitutto non abbiamo visto queste scatoline Se sono piene Quindi è il momento del rullo di amburi Lascia like e commenta Iscriviti al canale Prima scatolina Questa qui che ci ispira È perfetto Iniziamo proprio la grande È vuota Va bene Consideriamo che la scatolina Diciamo al mercato La posso rivendere anche sui 2 euro Quindi facciamo finta di niente E poi abbiamo la seconda scatolina Raga Pronti E anche questa è vuota Molto molto bene Per dire In realtà è molto male Va bene E io direi Innanzitutto vedo delle carte Mezze Lasciamo stare la bomba atomica Che è esplosa in questa scatola Però vedo qualche carta qui Che sembrano Intoploderate Ok Ok Questa non è male come carta Dovremmo anche controllare Ovviamente Come sono messe Perché non diamo per scontato Che sono messe bene Essendo che Boom Carte Distrutte Letteralmente Diamo un'occhiata al volo Alle condizioni di questa carta Questa è una carta che sta Sulla cinquantina Circa di euro Se è messa in nier mint Ma Ha qualche pieghetta Qui in basso Sì No Piegona Anzi qui in basso Guardate qui raga No no Rovinata Non so se si vede Sì sì si vede assolutamente Dietro Sì L'angolo qui è mangiato Non è assolutamente nier mint Ah E poi da notare Non so se si nota qui nel video Ma c'è una piegona gigante Da qui a qui Quindi Diciamo che È un pur A tutti gli effetti Dovrebbe stare su 15 euro Alle circa Male Se tutte le carte qua dentro Quelle buone almeno Perché qua qualcosa in top loader Altro c'è Adesso controlliamo subito Ma se tutte le carte sono messe così È molto male Perché influisce tantissimo Sul prezzo Quindi ragazzi Andiamo a controllare E ricordo che per ora Siamo sotto i 285 euro E guadagnare con questo acquisto Rischioso Sarà fattibile? Andiamo sempre a prendere Qualcos'altro nel top loader E qui mi sembra di vederne anche un altro Nascosto Eccolo qui infatti Non riuscivo Ok Intanto guardiamo qui ragazzi Questa neanche slivata Sì Buttiamole così le carte E boh Excellent Probabilmente Vedo qualche pallino bianco Lì dietro Ma stiamo parlando di Due euro di carta Sì e no Quindi Siamo sotto i 283 euro Yeeeh Io rido raga Ma in realtà Sono abbastanza teso Perché comunque 300 euro Non è un acquisto così semplice Non mi avete mai visto Spendere quei soldi al mercatino E qui abbiamo Un'altra carta pokemon In top loader E Ovviamente Speriamo che non è l'ultima Perché se è l'ultima Carta Diciamo di Tra parentesi valore Siamo messi veramente male Speriamo in un nermint Ma già questo bordino qui Non mi ispira Anche da slivato Quindi figuriamoci Vediamo un po' No raga Questa nermint Mai nella vita Guardate qua in basso Angolo rialzato Peccato Ah Poi il dietro È un piacere Mamma mia ragazzi Messa veramente Male 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 Peccato perché Questa è una gran carta Messa bene Sarebbe stata interessante Messa così Boh Forse esageratamente Se siamo buoni 30 euro Ma noi non siamo buoni Quindi classifichiamo A 25 Perché Perché sì Dai raga È troppo rovinata È invendibile Il mio acquisto È stato dettato Proprio da quelle tre carte Che abbiamo visto Perché quelle si intravedevano E poi speravo Nelle scatole piene Ma raga Niente Quindi adesso Qui tocca controllare Se magari In mezzo a queste carte Dato che il tipo Che le collezionava Non penso che le collezionasse Effettivamente Da esperto Però queste Secondo me A vista Sono tutte common Comunque Per ora Vi voglio far notare Tutti i bordi gialli Tutte carte appunto Dell'era spada e scudo Quindi magari qualcosa di interessante Potrebbe anche Uscire Lì abbiamo un box Di tempesta argentata Mi sembra sì Sì perché c'è il reggelecchi Spada e scudo Sappiamo tutti Che alla fine È anche una bella espansione Cioè scusate È una bella era Quindi qualcosina Ci potrebbe essere Mi auguro Non solo quelle Perché sto iniziando A preoccuparmi Controlliamo qui Se c'è qualche altra Intanto mi sembra Di aver visto Un top loader Sì È un altro top loader Eh però Vabbè raga È una TG Quindi TG costosissime Non ce ne sono Quindi alla fine Non è che abbiamo fatto Il colpone Con quella TG Comunque Continuiamo a guardare le carte Allora Qui abbiamo Altre common Sì sì raga Questa è tutta Roba che vendi al chilo Cioè per carità Ce li fai Dieci euro Con tutte queste carte Perché vanno al chilo Ma Io ne ho spesi 300 Andiamo a prendere Questo top loader E vediamo se Bella Questa è una bella carta Però guardate anche questa Che piegone Che sbrego che ha qui Non so se si nota Sì sì si nota Mamma mia ragazzi Tremenda Eh diciamo che Chi collezionava queste carte Non è che ci teneva Più di tanto Cioè La Quello che penso io È che erano Dei bambini Praticamente E i genitori Han buttato nella cantina Lui è andato a svuotare La cantina E hanno ammassato tutto Così a casissimo Sbagliatissima come roba Raga è il momento della verità Apriamo sto box Vediamo se Eh no Non mi piace come Oh però aspetta C'è un'altra top loader Ah ok Ok va bene Una full art Anche qui Wow Due euro Siamo a Circa 270 euro In perdita Fantastico Però fa ridere il fatto Che le carte costose Tenute malissimo Le carte full art Sì per carità Rovinate anche queste Ma tenute meglio Ma perché sta cosa Per carità È vero Ci sono carte sbrilluccicose E la gente che non ne capisce Pensa che queste Sono quelle più costose Ma non è così E quindi Tengono più praticamente A queste Che a quelle effettivamente costose E qui ragazzi Non mi fa presagire bene Perché sono tutte common Tutte common È una cosa fuori di testa Abbiamo comprato un mucchio di common E basta Però vedendo che sono tutte common Forse ci facciamo anche Fammi ridere nel pianto 20 euro Con tutte Vabbè Qui tocca iniziare A scavicchiare un po' Mi sembra di vedere Un altro top loader E vabbè Un'altra TG Anche questa Molto bella Rovinata Come al solito Qui su questo bordo Tutta smangiata Raga Purtroppo anche questa Non è nermint Peccato Bella Non costosa Ma una bella carta Comunque E raga per far veloce Dobbiamo cercare di scavare un po' Anche perché me ne voglio andare Da sto posto Che è abbastanza inquietante Non so se avete Ok Qui abbiamo un altro top loader Di ditto Vimax Carino Ma anche questo Valore è veramente inesistente Non guardiamo neanche le condizioni Di quello Controlliamo se qui C'è qualche top loader Tanto abbiamo capito Come funzionava Questa collezione Se così la vogliamo chiamare Io non so dove poggiarle ma Allora Qui intanto Abbiamo visto che c'è qualche altro top loader Adesso diamo un'occhiata subito Però vabbè Cioè mi fan ridere Ste cose Buttiamo là dietro Che dobbiamo buttare tutto Raga Raga Ok Adesso si inizia a fare interessante La situazione qui Questa è decisamente interessante Come carta Non stiamo parlando di un valore enorme Andiamo a controllare Prima le condizioni E poi vi dico Quanto potrebbe costare Allora Già che questa è slivata Magari ci fa sperare Anche un pochino L'olografia davanti Mi sembra messa bene I bordi mi sembrano messi Abbastanza bene Eh sì Ma non è Nier Mint Sicuramente L'olografia è messa bene E i bordi sotto Eh dietro no Eh figurati se Era Nier Mint Peccato Mangiata lì Mangiata qua sotto Decentrata bestia Quindi anche lì Tremenda da gradare Però Però comunque stiamo parlando Di una settantina di euro di carta Quindi diciamo siamo in perdita di solo 200 euro Solo Per modo di dire Solo Quindi questa intanto la mettiamo via E scaviamo ancora Allora ragazzi Facciamo effetto gru Controlliamo Se c'è qualche top loader Se nel caso vedete che mi è sfuggito Qualche carta interessante Qualche top loader Scrivetelo nei commenti Fatecelo sapere Vabbè che tanto più tardi Ne andremo anche a controllare Meglio a casa E intanto qui mi sembra di non vedere niente Sì è roba sbrillucicosa Raga ma roba Veramente che vale Boh Due centesimi in una Se è tanto Ok Qui abbiamo tirato su Un paio di top loader Vediamo un po' No tre addirittura Tre top loader Ma già vedo che Roba che non ci interessa minimamente Un paio Ma perché mettere una olografica In un top loader Che poi tra parentesi Le mettono in top loader Per carità Ma senza neanche sleeve E poi abbiamo il Raichu E delle carte common Va bene Intanto continuiamo Mamma mia Quante sono Forse anche 30 Ce ne facciamo di euro Intanto alla fine Vanno a peso queste carte Quindi vediamo Queste sono tutte common Controlliamo Siamo Oh aspetta aspetta Top loader Top loader Attenzione Questo è anche slivato Quindi potrebbe essere qualcosa di interessante Oh Adesso iniziamo a ragionare ragazzi Anche questa è una gran carta È un Charizard comunque Però dobbiamo controllare come al solito Le condizioni Per vedere effettivamente Quanto potrebbe valere Alla veloce Controlliamo le sue condizioni Poi ragazzi Ovviamente noi a casa Controlleremo meglio Vedremo effettivamente Se hanno anche altri problemi Allora Non sembra messa male Però Ho visto una grinza qui Esatto Sì 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 Questa Non è messa Al top Qualche bordino Lì Qualche puntino Qua nell'angolo Diciamo che Forse con quella grinza La valutiamo Un good Secondo me è un good Perché è una brutta brutta grinza E potremmo stare Sui 80 90 100 esageratamente euro Mettiamola via Questa penso che sia La carta più interessante Di oggi Assolutamente A mani basse E adesso siamo in perdita Di 100 euro Però Andiamo a controllare Se magari può uscire qualcosa Ma perché Ma perché Mi spiegate perché Cioè è bella come carta Per carità il pattern e tutto Ma perché metterla in top loader Mi fai sperare a gratis Tu Tu che hai fatto questa scatola Mi stai facendo sperare a gratis Tutte common anche qui Quindi buttiamo tutto Cioè buttiamo via no Perché comunque le carte Non vanno disdegnate Neanche le common Neanche sia chiara questa cosa Però Ragazzi Qua stiamo parlando di affari Di soldi Quindi Tocca Andare a caccia di affari Di carte pokemon Soprattutto i mercati Vini dell'usato È il nostro mestiere A sto giro Abbiamo voluto provare Qualcosa di diverso Che poi Non ve l'ho detto Ma questo ragazzo Ci ha contattato Da instagram Quindi anche voi Se magari avete qualcuno Che vende la roba Trovate in cantina Così A casissimo Contattateci Seguiteci su instagram Che noi magari Ci interessiamo Di questa cosa Nel frattempo Mettiamo via anche queste Qui siamo rimasti Con un po' di carte E lì c'è un altro top loader Ragazzi Qui Mi sembra di non vedere Nessun top loader No L'ultima carta Che cos'è È un comiglia Bellissimo Strabella È l'ultima carta Del top loader Ah no aspetta C'è un'altra carta qui Allora raga L'ho voluta lasciare qui apposta Non è casuale la cosa L'avevo vista Che era in quell'angolo Ma è soltanto Perché sono in ansia Sono in perdita Di 100 euro Che non è poco Perché comunque Noi lavoriamo Oltre youtube E spero svolti la giornata E spero svolti la giornata Almeno un minimo Cioè almeno andare in pari Sarebbe già qualcosa Da notare l'ansia ragazzi Di questa cosa Mamma mia Il box di tempesta argentata È lì come ultima carta Ci ha salvato proprio L'ughia di tempesta argentata Ragazzi Allora Esultiamo per carità Ma prima dobbiamo controllare Le condizioni Comunque In ogni caso Anche in pur Dovrebbe essere una carta Ad almeno 200-300 euro Quindi Controlliamo come è messa E speriamo che sia un near mint Perché stiamo parlando Di almeno 500 euro di carta Molto interessante Ovviamente Non l'abbiamo detto Ma deve essere scontato Il fatto che deve essere Anche originale Però dai colore Dal pattern Anche se gratta veramente poco Però dal pattern Mi sembra Molto Fattibile Il fatto che è originale Sì sì ragazzi Questa è originale Il davanti Non mi sembra messo malissimo Solo l'angolino lì Potrebbe presentare Qualche piccolo difetto Non so se si vede Sì eccolo No Non si vede Comunque ragazzi Vi assicuro Qui Qui che cosa Mi zoom un attimo Che non vedo Grazie No 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 Quello era soltanto Una roba mia Ah il back No raga Raga A parte L'angolino qui in alto Mi sembra anche Near mint Quindi stiamo parlando Di 500 euro di carta Questa la risliviamo E toplodeliamo subito Passatemi il termine L'ho appena inventato E coniato Giustamente adesso Mi sono un po' ripreso Sono stato tutto mojo Il tempo Tutto il tempo Del video E il videomaker Il regista Mi diceva Dai tirati un po' su Ma Questa mi ha fatto davvero Tirare su Questa è una bomba La seconda Che metterò Nella mia collezione La prima L'avete già vista In un video Gradata 10 E con queste tre bombe Che ci hanno veramente Salvato la giornata E questo macabro posto Dove spero Sinceramente Di non tornarci mai più Noi vi salutiamo Ci vediamo in un prossimo video Ma lascia like Commenta Iscriviti al canale E Ciao Ci vediamo in un prossimo video